Ah, tu mi dici paros. No, io vi ricordo che è il 10 d'agosto, eh. Come ci sono solo tre posti? Oh, la bambina no, eh. E con la bambina avete risolto? Mi lasciano in collegio. Speriamo ci sia la sorella dell'anno scorso. Quella che mi menava. Ma c'è, dove stavi? Da mamma è bestiavoli. Ma voi siete sicuri che questa è l'isola adatta a noi, eh? Se dico solo due parole. Ah. Attento. Ora se ci va. Detto ciò, ma sentite. Eh, beh, beh. Siete usciti ieri sera? Sì, sì. Ma solo un giretto, eh. No, no, no. Questa è giuba, non leccano. Lo iniziamo a fare. Io non guarderei un'altra donna neanche con la coda dell'occhio. Ma se non fossi stata con Giorgio, me l'avresti dato quel bacio? No. Io ti ho tradito. Va, te. Sono a paros. A me serve un bambino triste, incazzato. Incazzato? E a cui serve così. E lui è Angelo. Mi ricordavo Simone, no? Simone, Simone, è il mio Angelo. Cosa non fareste voi per una scopata, eh? Chi è questo bel bambino? E come chi è? È mio figlio. E quando l'ha fatto stanotte? Qui ognuno è venuto in vacanza per stare per i cazzi suoi, vero? C'è una mogliezze a ballare. Ti faccio fare l'alba, chicca. Ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, ci voleva lei, che ti portasse fino a qui, perché fossi come sei, perché fossi così. E ci voleva sano come spesso, ma stimolato, pochi grammi di coraggio, un vestito un po' più corto e poi lo sguardo. E io non lo so pure lei mi rac Noia Grazie.